Continua in modo intenso a Borgo Valbelluna l'attività di smontaggio delle linee dell'ex ACC per lasciar posto ai macchinari ed impianti di Sest e dare il via così da settembre alla produzione di scambiatori di calore. Intanto, mercoledì 3 agosto, davanti al notaio, verrà ratificato il contratto di cessione della storica azienda di compressori alla controllata del gruppo Luve, il cui preliminare era stato firmato pochi giorni fa proprio a Mel. Quella che un tempo era conosciuta come Zanussi Eletromeccanica è dunque proiettata verso il nuovo futuro. Il programma Marcia Spedito ed anche i primi 43 lavoratori dei 150 che verranno riassorbiti sono già di fatto entrati in azienda. In base ai pensionamenti e al progetto di ricollocazione professionale coordinato dalla regione, una trentina circa dovrebbero essere le maestranze da immettere nuovamente nel mercato del lavoro. A richiamare l'attenzione proprio sul tema del capitale umano, ma non solo, è in queste ore la FIOM CGL di Belluno. Ci auguriamo che due aspetti di questa vicenda oggi non vengano dimenticati perché sono di fondamentale importanza. Da un lato la ricollocazione dei lavoratori che sono stati esclusi dall'assunzione di Sest e quindi la regione, Confindustria e tutte le parti in causa devono fare la loro parte perché questi lavoratori trovano una soluzione occupazionale. E dall'altro il tema degli ammortizzatori sociali. Sappiamo che gli ammortizzatori sociali sono stati rinnovati fino al termine della procedura di amministrazione allenaria nel novembre di quest'anno. Ad oggi non è conosciuto quale strumento ulteriore ci sarà per accompagnare tutti i lavoratori, sia quelli che saranno riassunti che quelli che sono esclusi, per tutto il corso dell'anno 2023. La crisi di governo naturalmente non aiuta e quindi ci auguriamo che la regione e tutte le parti in casa facciano il massimo possibile perché gli ammortizzatori sociali dopo novembre di quest'anno siano garantiti.